... Formare i futuri manager del food e aspiranti imprenditori dell'enogastronomia è l'obiettivo di un nuovo master che partirà a settembre l'idea è di un noto chef che è anche imprenditore Se una volta bastava un bravo cuoco, generone, generoso a poter fare un'ottima cucina oggi anche le istituzioni ci mettono nelle condizioni di diventare imprenditori L'imprenditoriale una volta si utilizzava per quello che era il mondo dell'industria oggi la parola imprenditoriale invece appartiene anche a quello che una volta era il bottegaio oggi il bottegaio deve calzare l'abito dell'imprenditore E le opportunità per i giovani nel settore della ristorazione non mancano Il mio master vuole proprio questo vuole proprio dare l'idea sana che in questo mondo diciamo nel nostro paese, in Italia visto che il cibo rappresenta la centralità rappresenta il turismo lo dicono tutti da tanti anni però nessuno investe nell'andare a creare nuovi posti di lavoro io sono convintissimo che il cibo può generare grandi posti di lavoro ma la cosa bella è dare l'opportunità ai ragazzi di essere più trasversali di fare scelte che non sono solo legate a diventare tagliatori di cipolle ma a diventare dei veri manager